Dieci anni di Borgo Rocca Sveva, dieci anni di successi. Borgo Rocca Sveva è l'esito di un progetto molto ambizioso, approvato all'unanimità da Cantina di Soave per testimoniare il suo legame con il territorio e rappresentare la qualità dei suoi vini. I lavori si sono conclusi nel 2003 con grande impegno e responsabilità e oggi siamo qui a festeggiare il decennale della costruzione di questo Borgo. È stato senz'altro un percorso significativo sotto tutti i punti di vista che si è concretizzato in una struttura polivalente che attira migliaia di visitatori e organizzazioni socio-economiche che ogni anno utilizzano i nostri numerosi servizi offerti dal grande editorium, all'utilizzo delle sale e riunioni, dalla degustazione dei vini, alle visite guidate e alla sala ristorazione. Si è trattato di una scelta strategica lungimirante, molto impegnativa dal punto di vista finanziario, che si è resa possibile senza chiedere alcun minimo intervento ai nostri soci e che al contrario ha assicurato delle fonti di reddito sicuro e garantito per la base societaria stessa. A distanza di dieci anni possiamo affermare con una punta di orgoglio che si è trattato di un investimento molto efficace e positivo che ha dato la possibilità di far conoscere i vini di cantina di Soave nel mondo con grande prestigio e considerazione, dando soddisfazione ai 2200 attuali soci e a tutte le maestranze che operano nei vari stabilimenti. Gli uomini, l'ambiente e i vigneti di un territorio unico. È questa la chiave del successo dei vini Rocca Sveva. La Rocca Sveva è stata la più brillante intuizione dell'ultimo decennio di cantina di Soave. Questa intuizione ha portato a costituire un centro polivalente in cui accanto allo storico auditorium già sede dell'Assemblea dei Soci esiste oggi un importante wine shop che mette in vendita tutti i prodotti di alta qualità di cantina di Soave. Il wine shop è completato oggi da una struttura di ristorazione che ne garantisce una recettività e un miglior utilizzo. All'interno della struttura è stata completata la ripresa di Villa Giavarina, la storica Villa Giavarina, cui interno sta la sede di consiglio di amministrazione. Il tutto a nord è completato da un orto botanico che non esagero se dico che è il primo di Verona e che accoglie non meno di 150 varietà di piante autoctone rigidamente catalogate. L'orto botanico si conclude a nord con alcuni ettari di vigneto sperimentale che accoglie in sé non meno di 35 varietà di vigne, non meno di 45 cloni, oggetto di continuo studio e ricerca. In poche parole, questa è Rocca Sveva. Tra le sue colline, Cantina di Soave seleziona un ristretto numero di vigneti da cui ottenere i vini più prestigiosi, i vini Rocca Sveva. Selezionati e raccolti a mano, i grappoli migliori vengono lavorati con passione e talento, nel rispetto di rigorosi percorsi qualitativi che si rifanno alla tradizione con un forte impulso alla ricerca e all'innovazione. In questi dieci anni, i vini Rocca Sveva sono diventati ambasciatori nel mondo della prestigiosa tradizione veronese. Sono presenti nei quattro angoli nel mondo, da Monaco a New York, da Tokyo a Mosca e hanno conquistato i principali riconoscimenti internazionali, incontrando i favori della critica più attenta e la fiducia dei consumatori di tutto il mondo. Sono passati dieci anni da quando abbiamo inaugurato Rocca Sveva e ci troviamo in questo momento a festeggiare una realtà che rimane dopo dieci anni un qualche cosa di unico ed esclusivo. Borgoro Casveva ha dato una giusta risposta a quelle che erano le attese. È prima di tutto una cantina, una cantina che ogni anno gode di riconoscimenti internazionali più importanti, in particolare questa nostra denominazione, il Soave, il Valpolicella, che danno tanto lustro al nostro territorio e alla nostra cantina. Ma è ben di più, è quel condensato di storia, cultura, tradizione, qualità che fa sì che Rocca Sveva ogni anno si offre la curiosità dei visitatori che sono più di 20.000 attraverso la visita alle nostre grotte, si approcciano alla conoscenza dei vini, alla nostra qualità, a quello che il territorio produce. È anche un luogo apprezzato dalle aziende che vogliono fare dei loro meeting, avvicinandosi così a quello che è un percorso di degustazione, di visita delle cantine in un luogo che è unico ed esclusivo. Sono passati 10 anni, possiamo concludere dicendo che questi 10 anni hanno dato lustro al territorio, hanno qualificato cantina di Soave e ha dato soprattutto quel giusto ritorno economico ai soci che sono il motore dell'azienda. Grazie per la visione!